Il cyberbullismo nell'era della social media education. E' questo il tema del ciclo di tre incontri seminariali per insegnanti, formatori ed educatori che ha preso il via il 7 febbraio 2017. L'iniziativa, promossa dal CESEDI, Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino e accreditata dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, viene realizzata in occasione della prima giornata nazionale contro il bullismo a scuola, indetta dal MIUR, e in coincidenza con la giornata europea della sicurezza in rete. Il percorso seminariale alla sua terza edizione è stato progettato e curato dall'Associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino. Durante il primo incontro, aperto dalla consigliera metropolitana delegata all'istruzione Barbara Zara e condotto da Alberto Rossetti e Sonia Bertinat, si è parlato di numerosi argomenti, tra i quali definizioni e scenari del bullismo, nativi e immigrati digitali, aspetti positivi e negativi dei social media, cyberbullo e vittima, cura delle relazioni digitali. I prossimi incontri del percorso seminariale si terranno il 14 e 21 febbraio. La città metropolitana di Torino è molto attenta ai temi che riguardano la scuola e in particolare appunto sul bullismo, il cyberbullismo, è già la terza edizione di questo seminario che coinvolge gli insegnanti perché sono coloro che verranno a sentire questo ciclo di incontri, ma in realtà la ricaduta dovrà avvenire anche sui genitori e sugli studenti. Formare in modo adeguato gli insegnanti risulta essere per noi fondamentale perché è un apporto su una tematica di rilevanza nazionale che per noi risulta essere davvero fondamentale. Una vittima del cyberbullismo è più difficile da individuare in quanto a differenza del bullismo classico non vediamo i segni fisici ma ci sono segni psicologici quindi l'aiuto deve arrivare assolutamente da tre direzioni che sono i genitori, la scuola e possibilmente la vittima stessa anche se molto difficile. I sintomi che si possono cogliere sono legati a un cambiamento della vita della persona che viene cyberbullizzata quindi uno scarso rendimento scolastico quando magari prima c'era un rendimento buono un abbandono scolastico addirittura un abbandono delle attività sociali e un ritiro sociale con spesso presenti anche dei sintomi psicologici come ansia o depressione quindi quando a scuola o la famiglia comincia a vedere questi cambiamenti nel proprio figlio deve allertarsi perché è possibile che qualcosa sia successo si può arrivare anche al ritiro sociale quindi chiudersi in casa e purtroppo la cronaca ci dice che in molti casi si arriva anche al suicidio quindi cogliere questi segnali appena si manifestano è molto importante e il lavoro sinergico importantissimo deve avvenire tra scuola e genitori. grazie a tutti